Oh oh, down down, oh oh, down down Le trading room sono un male per chi fa trading online O meglio, alcune trading room infinite, di moltissime ore di diretta Dove non si parla esclusivamente dell'operatività Ma si tende a parlare di tutto e di più Degli studi, dei controstudi, di un indicatore, di una cosa vista l'altro giorno, l'altro ieri, l'altro mese Indicatori che cambiano in continuazione Il trading deve essere semplificato Noi dobbiamo avere i nostri piani di trading affidabili E tradare in maniera automatica, quasi robotica, quei piani di trading Dobbiamo avere un diario delle nostre operazioni Quindi andare a studiare quel diario sulle operazioni Dobbiamo sapere quando sospendere una strategia che non sta avendo determinati risultati Dobbiamo studiare i drawdown, insomma dobbiamo fare una serie di studi Oltre che l'operatività vera e propria Quindi tra studio e operatività dobbiamo dedicare un certo numero di ore a livello settimanale Mediamente parlando Possiamo rassumere un'operatività sui 4 giorni a settimana E gli studi possono essere due mattinate ad esempio a settimana Si studia per due ore o per tre ore insomma quello che si è fatto durante la settimana E quindi abbiamo un trading operativo e abbiamo un trading di studio Il trading operativo deve essere concentrato non su tutto l'arco della giornata Quindi non dalle 9 del mattino sino ad arrivare alle 7 di sera Deve essere concentrato in fasce ben determinate Parlo in principal modo del trading intraday Quindi del trading fatto nel osservare barra dopo barra E quindi di un trading relativamente veloce Oppure dello scalping Quindi dobbiamo prendere in considerazione un periodo molto intenso Ad esempio di 2 o 3 ore al giorno Nel quale osserviamo i grafici Osserviamo la possibilità di arrivare a determinare i nostri piani di trading E guadagnare con essi Fare un trading di tanta quantità di ore ogni giorno Con queste trading room infinite Non porta assolutamente nessun beneficio né economico Né di qualità della propria vita Chi fa trading di solito lo fa per migliorare la propria qualità della vita Lo fa per avere dei buoni guadagni Lo fa per avere una vita differente rispetto al comune Lo fa per avere una vita da trader Se noi cominciamo a vedere la vita da trader Nello stesso identico modo Di una vita da impiegato Da operaio Quant'altro Abbiamo capito ben poco Da questa attività E forse è meglio tornare alle origini Quindi è meglio tornare ad avere un lavoro totalmente dipendente Perché con il lavoro totalmente dipendente Quanto meno abbiamo meno stress Meno ansia Meno pressioni di risultati Perché ovviamente se facciamo trading Dalle 9 del mattino Fino al tardo pomeriggio Fino addirittura alla sera Abbiamo capito ben poco Sul cosa può essere il trading online E sul quanto possa migliorare la nostra qualità della vita Il trading deve essere un'attività Fatta nei giusti orari Nelle giuste fasce O pomeridiane o matutine O un po' di mattina o un po' di pomeriggio Ma generalmente parliamo di un'operatività Che si può racchiudere tranquillamente In 3-4 ore al giorno Non di più I grandissimi del trading Fanno trading in questo arco temporale Non fanno trading 6 ore, 7 ore, 8 ore al giorno Poi a questo trading sicuramente possiamo unire un trading automatico E quindi abbiamo strutturato delle buone strategie Le andiamo a softwareizzare Le andiamo a computerizzare Le andiamo a computerizzare E sarà il software a dirci Attenzione C'è un'entrata sull'euro-dollaro Sulla sterlina-dollaro Sul dax E così via Allora che andremo a controllare Se quell'entrata effettivamente ci piace e ci interessa E vogliamo intraprenderla Oppure Totalmente automatizzato E quindi ci farà direttamente Il software Le entrate a mercato Ma ovviamente il tutto è determinato Da un nostro programma Quindi anche un expert advisor Che lavora in automatico E un expert advisor Che andiamo a sviluppare noi Non arriva dal nulla Quindi comunque è sempre determinato Dal nostro modus operandi Possiamo riassumere quindi Un mio personale consiglio Ma che è un consiglio scopiazzato Non è un consiglio personale È un consiglio determinato Da quello che fanno i grandissimi Del trading online Ancora viventi Non fanno un trading di tante ore ogni giorno Si prendono in esame Solitamente delle fasce Durante la giornata Che possono essere di 2, 3, 4 ore Un po' di mattina Un po' di pomeriggio O esclusivamente il pomeriggio E fanno trading Sul proprio piano di trading Sui propri piani di trading In quelle fasce orarie Oltre questo Studiano settimanalmente Quello che hanno fatto E quindi hanno un diario di trading Dove ogni particolare viene aggiornato Lo seguono passo passo E non fanno altro Non si inventano altro Se a questo poi Vogliamo unire un trading automatizzato Un trading Oppure avere un conto trading Dedicato con i nostri expert advisor E quindi che lavorano in maniera autonoma Con le nostre strategie Che è assolutamente Un altro fattore importante Significativo Che sicuramente può avere Degli effetti molto utili Anche perché il trading È quello Quello che troviamo Nell'expert advisor Ossia anche quello Che noi facciamo A livello manuale Deve seguire Dei parametri Ben rigidi Ben fissi Ben Plasmati E quindi L'expert advisor Deve essere per noi Un esempio L'expert advisor Lavora in maniera Automatica Su parametri Ben rigidi Ben fissi E questo È quello che dobbiamo fare noi A livello di trading Intraday Quindi di avere Un piano di trading E seguirlo alla lettera Passo passo In maniera automatica Con dei buoni Piani di trading Ovviamente Non con dei piani di trading Che abbiano dei risultati Non particolarmente Eccellenti Quindi il piano di trading Deve essere strutturato In maniera Assolutamente Certosina Ma Lo stesso piano di trading Deve essere seguito Davvero Alla lettera Quindi Poche ore al giorno A livello operativo Studio Durante la settimana Diario di trading Questo fatto Durante il corso del tempo Porta poco per volta Una persona A vivere Di trading Certosina Secondo Per Ho Let's Ho Kit Vai Il loading común Lo Vo Ci free clothes irm Be Lo Bis